Ciao a tutti e belli e brutti dal vostro Cristian De Ares. Eccoci tornati ancora con questo live, sempre su FIFA, sempre sul torneo di qualificazione e eliminazione giornaliera di FIFA 17. Allora, praticamente abbiamo visto già un video di live memorizzato ma non si sente una beata fava, quindi adesso sono sicuro che funziona perché dal primo pezzettino che ho fatto prima di questo video si sente l'audio, quindi spero che funzioni. Quindi se mio nipote che magari poi mi segue e mi avvisa se non funziona e terrò terrò portata di male cellulare, vediamo un po' se magari riesce, intanto vi mando un ok, forse ci sono riuscito, ok, forse va, andiamo un po', intanto niente è un momento catartico, intanto tengo che sott'aceto anche cellulare. Allora, qua mi dice che sono ancora con due tentativi rimasti, direi di passare la palla al gioco e non basta con le boiate, intanto qui ci siamo visti prima la partita con Valderrama di passare, che non si è comportato malissimo, però vabbè, è un po' clamorosamente, beh, Rinnoviamo il contratto a Gianni, che è un giocatore che ho trovato, tra l'altro... raramente c'ho qualche contratto da rinnovare però vabbè fa niente mio nipote lo saprà allora selezioniamo la rosa prendiamo questa qua per qualificarsi bisogna avere una squadra di valutazione 82 quindi io mi sono fatta questa qua perché la maggior parte dei giocatori l'ho trovati tranne cantè se non mi sbaglio solo cantè ho comprato a e questo qua muses del resto l'ho trovati comunque cerchiamoci qualcuno e da rinnovare credo di 85 con l'innesto di zaha all'interno delle file dei miei giocatori intanto giochiamo in casa un po salio si disconnette vediamo se troppo che la latenza no giusta direi di andare avanti casacca rossa con una casacca nera non penso che crei problemi ok apporta qualche modifica la maglietta che bella formazione la musa che vabbè pagato non sanno pulitarsi cominciamo dunque la gara parte di asusciano invece ne ho una vediamo con l'aiuto della grafica la formazione con cui si schierano in campo quest'oggi la scelta ora per questa sfida ricaduta sul 4 3 3 entro fessivo con ora bella al 1 2 sulle fasce e una punta cazzarola cazzo no con qualche palla noi ce l'abbiamo ancora noi tentiamo il tiro porca cazzozza del mondo della tirata su questa bella iniziativa dell'attaccante si era involato verso la porta palla al piede ma ha mancato il bersaglio per una questione di centimetri occhio ad azar che avanza grande chiusura difensiva l'allana gocantore baragna metri verso l'area ottimo il pallone filtrante senza problemi qui per la difesa lo scopriamo solo ridendo diceva qualcuno grazie si parte di contropiede a occhio al traversone allone recuperato occhio al cross l'anticipo del difensore a spazio per tirare no è andato fuori di poco che era l'allana la lana buona ha aperto la chiesa no è andato a spazio prova ci aspetta il calcio d'angolo no è andato successo attenzione occasione d'oro piani occhio al suo movimento ah è continuo ha perso il pallone è un brutto pallone vediamo se l'arbitro prende provvedimenti nell'arbitro estrae il cartellino già cosa che toglie il giocatore così alla buona ah è a fuggi e si palla ancora con defu e l'hai tanto per defu oh ma no ma che cazzo di tiro ha fatto una buonissima chance in contrapiede concludendo abbondantemente fuori non era facile mantenere la lucidità dopo aver corso tutti palla a noi vai ma porca cazzozza ma perché non è andato in passaggio buono l'12 il neni cercano spazi manovrano elegantemente con questa serie di passaggi ande è ancora lui giustamente il neni no ma sarà fallo laterale bene ottimo tiki taka musa vabbè sono avanti grazie a questo gol e vabbè e vabbè e vabbè ovviamente dei giocatori boh non vanno in contrasto però vabbè fa niente sta anche guardano il cielo con questo bel gol 1 a 0 vabbè non aspettiamo 1 a 0 stavamo giocando bene s 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 c s s s s s s s cosa? vabbè il mare c'era si vede al patterlo ho dato qualcosa di rinforzato ah non ha buttato piano ho preso il cantè oh cazzo allora questi agiti prima veramente non li fanno mai e voi bellissimo già di Elka ora già di Elka ma avete tra le file avete una squadra della Barkley ve lo consiglio si fermano la loro avversaria e proviamo da fuori ma almeno c'entra la porta quando tengo premuto sto tasto c'entra la porta però vabbè ti diamo i fili ande Gianni Elka che riporta di pelle la nana dice no non è possibile dividere le vite tramite vai lui però Rappasini ci portava bene vabbè niente l'azione è buttata alle ultiche freno si avvicina all'area si avvicina all'area si avvicina all'area si avvicina all'area con Pully ma è era l'azione dell'avversario però comunque non è andata a buon fine per fortuna nostra ma era 2 a 0 con Lee Benji il quarto uomo indica 4 minuti di recupero volasi 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 ma dove cazzo la passe ha passato indietro hanno interrotto l'azione avversaria recuperando palla a centrocampo alleluia praticamente lui andava avanti e quelli gli passavano la palla cioè non riusciva a passare la palla a lui io volevo passare a lui però vabbè finita il primo tempo che sta andando un po' a fuffa a quanto pare non ho fatto neanche un tiro in porta 5 tiri tutti fuori dallo specchio quindi tanto per farvi capire come la tirano precisamente io vi tengo anche primo tutto per dare la precisione del tiro alla cosa è l'altra la domanda è riusciranno a reggere i ritmi nei primi 45? beh c'è spazio per andare a quanto ce la faranno ad azze che era un passaggio? eh no a quanto pare no eh ah beh ma no è fuori gioco ma non ho pensato che avessi fiscato Danielca punta l'area palla recuperata azione intero troppo bello per essere vero che avessi fiscato di questa cosa e anche questa volta eh schiele eh attaccante lanciato da solo in contropiede palla che è uscita di poco buona comunque la sua iniziativa buono il recupero possono ricominciare ma è inutile non riesco a attaccare perché praticamente ogni volta che passo la palla la palla la va a lui qua vado per prendere la palla giustamente se la porta fuori eh e allora vediamo un po' riusciamo a difenderci almeno da questo corner il ragazzo laggiun come diceva una canzone bella Ulasi dove vai bella uno che supporta no Masuaku Masuaku Diffel occhio cerca l'area di rigore cerca il buco della difesa avversaria ah ottimo il Tikitaka qui ecco il tiro il portiere in presa sicura beh eh ma almeno un tiro in porta l'abbiamo fatto centrale almeno la voglio dire che almeno la presa la non va Elka Teso Masuaku palla larga mantengono il possesso del pallone con una buona serie di passaggi ma no porca cazzozza palla schizza via dopo il contrasto El Nemi palla persa El Nemi è suo ci sono metri a disposizione buon possesso palla cercando sparsi Ramsey ma lui ma no non sono riuscito a fare una girata come dai giocatori giustamente va bene da un altro poi recuperiamo benissimo palla passiamo in basso eh cacchia allora bella bella ma se riusciamo ma se riusciamo qualcosa ma porca cazzozza mi merito il 2-0 no ma no ma chi cacchio la pa- vai va ma che l'ho buttata fuori ma che l'ho buttata fuori grande tanto qua punto l'hanno che dici di no avrei già presi 3 per un potere non male cacchia la difesa cacchia la difesa cacchia l'attacco giuro cacchia l'attacco giuro ancora un quarto d'ora da giocare ma se riusciamo a fare qualcosa di carino oh oh bravo cacchia l'attacco giuro c'è spazio per andare palla schizza via dopo il contrasto in giuretta avevo schiacciato il cross però vabbè non ho presa cacchia l'attacco giuro cacchia l'attacco giuro sono riusciti a tirare di testa ande quel cupero continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto vai ma no sarebbe stato tutto solo per il portiere suo ogni tanto deve fare qualcosa nella testa ancora 600 secondi alla fine vuole sì maragna metri palla che termina in out sarà fallo laterale cante gran palla dentro oh porca cazzo riesco a saltare l'ultimo uomo eh non ci riesco non ci riesce ci riesce benissimo grande grande bootland e gli frega praticamente serva ancora abbiamo ancora 6 minuti grande comunque bootland oggi prova a andare decisivo quel portiere che evita il doppio svantaggio beh stiamo perdendo una zero ma teoricamente li avrei potuti prendere a meno 5 o 6 ok vai vai di contropiede fai Polasi fai Polasi vai affanculo Polasi ma perché è andato tutta in quella direzione ma anch'io e il neni ma ne guadagna metri verso l'area vediamo quando vuoi quando è così per forza di quercio quando è così che va i giocatori vanno un po' dove vogliano loro è è inevitabile il gol non si fermano più ne hanno fatto una no vabbè stiamola con sorriso le partite non hanno vinto neanche una hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2 a 0 vuole sì 180 secondi alla fine si si avvicina all'area senta qui la minaccia oggi non lo prende non lo prende non lo prende eh no era per quello lì che stava venendo sopra eh devo spaccare il pad per riuscire a fare un passaggio non è niente vedete partita persa 2 a 0 ma ha cambiato pure il colore il giocatore del pad non so per quale motivo perché l'età rossa è diventato blu vabbè eh momenti strani del gioco 98 crediti io non riuscivo mai a fare tanti crediti se i premi sono questi va beh che ho perso però almeno dammi qualcosa di più riuscito a fare due tiri in porta vabbè andiamo avanti intanto sono riuscito ad arrivare a 9800 crediti facciamo l'ultimo tentativo intanto lì ho perso che ha finito i contratti selezioniamo rosa intanto qua abbiamo un passore stranamente col contratto tutto eh eh non me ne voglio e mi ripotenica e voilà ok qua ci siamo ah ne abbiamo un altro senza contratto anzi altri due ok vediamo se riusciamo a trovare proprio pronti via ho già uno che ci sia che ci dia la possibilità di giocare la tezza è a 4 tac su 5 e ha belli i capelli cioè mamma mia fa morì no devo stare devo stare serio non è facile dopo che mi sono visto Valderrama ma porca zuzza ok eh manteniamo un po' un momento serio ok noi siamo casacca bianca questa volta mette subito in pausa probabilmente deve mettere Cristiano Ronaldo Messi Neymar ODS SFC ODS ODS PLEPS E' tutto pronto L'albito fischia il calcio ed inizio Alla protogina Vediamo con l'aiuto della grafica La formazione con cui si schierano in campo quest'oggi Alla ma 4-3-3 Il modulo scelto dal tecnico per il match di oggi Con due stabi offensivi e una punta centrale Questa volta non ho fatto niente La corrente non è saltata Va bene Non credo che me la dia vinta E' nulla Non la darà vinta a nessuno E' azzerato il moltiplicatore Un'altra volta L'anima di mortacci sua E' avanti Continuiamo così I capelli E si è ritirato Peccato che però Non mi dà vinta la partita E giustamente Mi fa cominciare da zero Mi mangia ovviamente i contratti Per fortuna non le ho persi neanche io Forse Vorrebbe Ok se tutti hanno Questa squadra Vediamo un po' Anch'io mi sono beccato Quello che aveva messo in campo Però Non è che mi sono messo a piangere A figliare E ho spento tutto Eccola Non ce la faccio E' troppo più forte di me Ok Una bella formazione Aspetto Anche di gioco Anche di gioco Anche di gioco Vuole Krikowiak Ed esco Mi fermo Perché Poi c'è Il tipo Cavani Io ho fatto Musa E Vandana Ecco lo schieramento Alle padroni di casa Si schierano Col classico 4-3-3 Con due attaccanti esterni Piano tattico Mi sembra chiaro Puntare i difensori Nell'uno contro uno Per andare sul fondo E crossare in mezzo O per tagliare al centro E concludere Direttamente in porta Questa volta Hanno passato dove volevo io Perfetto Abbiamola di prima Vai Vai Come sono ci possono Vani Vai Vai Porco Che è una parata E sarà calcio d'angolo Ok Tanto mio nipote Dice Si va Ma Sempre senza contratti Immaginavo Tutone Ciao Nicola Mi raccomando Riprenditi presto Tanto questo gol Lo ha dedicato Valderrama Dai belli capelli Dai dai Sei tutti noi Sei tutti noi Vai Valderrama Mori Mori No Sono ci stessi Anche Uno dei motivi Di interesse Di questa sfida Certamente È il duello A distanza Vida tra Valderrama Belli capelli I capelli Non ne ha più Ma è un passaggio Furturo Avanti Ok Vai che si parte Traxler Occhio al suo movimento Ah la Traxler Buona l'intuizione Un tepp No Tanto la parata Ma con i pugni Perla strano Betto vai Vai Valderrama Ha un ottimo tiro Valderrama Splendida parata In tuffo Del portiere Prova Valderrama Vediamo un po' Passare A chi Traxler Teoricamente Era per quello Che si era messo In mezzo Però ha deciso Di passarla All'altro Ma ricopriamo La palla Grande Dai dai R Tocco orizzontale Cercano spazi E ciampa Sul nostro Difensore Niente da fare Buon intervento Se ripartirà Dal rinvio Del portiere Dal fondo Portiere che non si è fatto Sorprendere Sulla conclusione precedente Ottimo il portiere Ha dimostrato Attenzione e concentrazione All'intervento Solo all'apparenza Semplice Buono L'1-2 Musa Baragna metri L'azione Sfuma qui Il Valderrama Però va bene Odito Cavani Cavani Attenzione Mario Manovrano Elegantemente Con questa serie Di passaggi Io ma La palla È sempre lui Crico Viac Un'ottima occasione Per il vantaggio Questa è stata Una grande occasione Peccato per loro Oh ho sbagliato Porca zozza Oh È là Dunque Fernandinho Alla recuperata Azione interrotta Aurier Aurier Qua recuperiamo Palla Bellissima Vai per Valderrama Che giustamente Mi dà passo Qua la cazzo Kurzawa Draxler Ese Cavani Fanno girare Benissimo Il pallone E Valderrama Tutto a due Ecco Valderrama Vaffanculo Veramente Un altro passaggio Alla cazzo Come so Aurier Guadagna metri Verso l'area Cercano col Tikitaka Il momento giusto Pastore Oh Dove vai Prova ad andare Colpito Prova ad andare Ma a meno Rimani davanti Davanti L'attacchiante Vede Valderrama Che cerca di Ustich Fa Occhio Cerca l'area Di rigore Buon possesso Palla Caccia Per il tiro Parata Del portiere Di crack Ottimo il tocco E si ferma Cavani Cavani Si tuffa E prende il pallone Tanto Sanno i suoi giocatori Come se fossero Dei funghi Il pallone Vediamo Vediamo se Non riesce C'è spazio Per andare Palla che filtra Benissimo Da lì Può andare Col cross Bella la parata Del portiere Mantiene il pareggio Un momento furtuito Per me Adrian Riusciamo Alla Ora lui Eh Diciamo che rilancio La palla sua No Quarto uomo Esibisce la lavagna Tre minuti Di recupero Ma Occhio Al suo movimento Hai Settiamo da fuori Allora Centrale Beh Fine primo tempo Non siamo sotto Quindi 0 a 0 Quattro tv Porta Tutti e quattro in porta Quindi stranamente Siamo riusciti a tirare Tutti e quattro in porta Vabbè Tutti e quattro centrali Quindi E poi Poi la perde clamorosamente Perché Ora Tu e tua sorella Ma No Scherzavo Facile Qui la prova del portiere Sulla conclusione da fuori Fernandini Oh Porca Me la sono rischiata Ntep Krikowiak Ci sono metri a disposizione Ha dei giocatori Krikowiak Sicuro Per perdere proprio Se riesci a dirli Conunciarli Direi che sei proprio nato Per questo lavoro Certo Depp Krikowiak Wilshire Quanta nasce Controllano molto bene Il possesso del pallone Cercano spazi Possi Tiki-Taka Ma no Ma ci mette tre anni Per fare un tiro E Splendida Il Banderrama Tira Eh sì Il gol La task con Banderrama Tutta la chiama Nebica Perché con tutti i capelli Che si ritrova È vero Riuscita La forfola Eh Siamo che sì Casi Risultato sbloccato Dunque Final Gol 1-0 Attenzione Colti Pantelrama Pallavagante Palla Occhio Cerca l'area di rigore Palla No Si è fermato Possono ripartire Ntep Cavani Palla Kolarov Lukas E con Valderrama Prova a impostare Valderrama Elegante Qui con il tacco Non l'avevo chiesta Questa cosa Però Kolarov Si continua Eh c'è il vantaggio Wilshire E Valderrama No lì Era per Valderrama La decimazione Ma intanto Prendiamo la palla Vai ancora Vai a fare C'è spazio Per andare C'è il fisco Dell'arbitro Si riparte Con un calcio Di punizione Io ho fatto sentire La presenza Attenzione E non trovano Il bersaglio Neanche stavolta No ma stanno sbagliando Troppo Oggi Ma ma Poi Nia Nia faccia Guardate che lo vedo Scattala Rizzata Stanno perdendo Nonostante abbiano Cacciato di più In porta Qualcosa non torna Evidentemente Devono aggiustare La mira Punta l'area Fermano la Palavra avversaria Kolarov Spazio per Valderrama Mira all'ass Ecco Valderrama Tocco di ritorno No porca zozza Che passano La palla Tu allora Andai qua Il movimento E' nel tiro Non c'è nessuno Vai che copra Porca zozza Ottimo il tiki-taka Qui Poi Valderrama Veramente Ehm Ci sono metri A disposizione Sagi Difficilmente Le sbaglia Il fa il cappellate Sagi Anche lui Rifa Però Stando che Poi è un buon tiro Va giù Manca l'otto minuti Al termine della partita Maragna Medri C'è un buon anticipo Grande qua Pallone Che termina Anderrama Aure Pastore Draxler Oh ma perché andate di lì A palla Manca poco Al termine della gara Partita non è ancora chiusa Vedremo Che cosa ci regaleranno Questi minuti finali Ecco il tiro Poteva fare certamente Anche la sbagliata Non male Pino mille Pino palle Ok dai La difesa è così alta Palla troppo corta Lui la palla Occhio cerca l'area di rigolo Non è La difesa si è aperta Attenzione Qua c'è il gol Che forza Un gol pesantissimo E la difesa si è aperta Proprio Tipo a dirgli dai Segna Sono queste le cose Che ti fanno bestialire Non era affatto facile Io per segnare Proprio Dare E c'è lui Proprio Si aprono le acque Ciao Si fermano I miei giocatori Tanto questo Prende e tira Adosso La gente E veramente Ti fanno giro le palle Qua adesso Io c'ho La difesa Non c'ho difensori Dietro E dai E finisce Prendo un pallaglio Finisce Parità dunque Si va Ai tempi supplementari Tempi supplementari Ormai Cioè Madelama Che tira il messo Immorale Però ha anche due palle Cioè Ogni volta A me è così Un gol Perché si aprirà la difesa Dice Vabbè Visto che Subire il gol C'è spazio per andare Buona la chiusura Prova a impostare Valderrama Wilshire Si continua Eh c'è il vantaggio No ma per Lucas E in cia E per cade E ormai che non ha Sfruttato l'occasione E qua è un'altra cosa Un'altra palla regalata Hanno provato a sfondare Per via centrali Ma sono stati fermati Wilshire Ah tu ma per te E qua è un'altra palla Dice Vai Vai e tira E tira però A zio Cairo E niente Giustamente È giusto così È giusto E tanto quel difensore Se ne va da una parte E te pareva Come prima Gioca il difensore Vede che va in giù Il difensore va in su Fa rivedere l'azione Perché giustamente Sarebbe veramente Da vergognarsi Capaci di equivalersi La sfida volta equilibrata Invece Ma che palle Oh Ma forco due Eh Io devo sudare Io devo sudare Lui basta che si avvicina I difensori si allargano I difensori si sono allargati Per due volte È finito E niente Un'altra sconfitta Ci stiamo avvicinando Un'altra sconfitta Questa volta Un'altra sconfitta Vedremo se una delle due squadre Riuscirà ad imporsi In questo secondo tempo A supplementare L'avesse fatta vincere una FIFA Eh qua Va dritto Va dritto Il giocatore Time and contrasta La prova Buona l'intuizione Può servire un compagno Ottima visione di gioco Palla lui Sì la vado a suo difensore La palla ancora a lui Hanno le caramite Loro hanno le caramite La palla proprio I valci i piedi A me invece Devo Beh vediamo se riusciamo A farne un altro Almeno per E niente Non la passa 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 Non posso Riusciamo a rompere Prendono una mazzetta Per riuscire a fare il passaggio Perché Musa Prova Valderrova Portiere che blocca il tiro Bravo qui Il tiro ma Non così potente Ancora cinque minuti Da giocare Nei supplementari Occhio Cerca l'area di rigore Prova da andare C'è la parata sicura Una volta Sei riuscito a tirare Miralas Ehi dai Miralas Corri Palla nuovamente In possesso Fernandinho Allontanano il pericolo Un'altra buona giocata L'extra time Sarà di due minuti Ormai una volta Che la palla Arriva ai piedi Del mio attaccante Un'altra partita Persa E vabbè Come avete potuto vedere Le cose Vanno come devono andare Sono sicuro Che se io prendo Cavani Queste cose Non riesco a farle Perché la palla Ce l'ha sempre lui Quanto avete potuto vedere Non è la prima partita Che faccio Ne ho fatte sei Quattro dove non si sentiva Due che Che si sente Ma a quanto pare Non funziona Intanto comunque Valderrama Ha 8.1 Il migliore in capo Dei nostri Vediamo poi il suo Giustamente Cavani Perché è una tripletta Intanto Lucas 5.9 Nel caso Vicenza Non ha visto neanche la biglia Vabbè Nulla Ho finito i tentativi Non ho più la possibilità Di provare A fare altre partite E niente Se siete in live Grazie Grazie mille Per la visione Un grazie di cuore Se la state guardate Di ferita Grazie di cuore Lo stesso Quindi niente Un saluto a tutti I pelli e brutti Da vostro Cristian Eares E ci vediamo Con la prossima partita Oppure col prossimo live Ciao Ciao